Vediamo come un telefono graffiato si trasforma in grado A. Questo è un telefono con molti graffi. Per prima cosa, dobbiamo costruire un auricolare impermeabile con colla. Assicurati che l'acqua non entri nei telefoni. Secondo, avvia la macchina. L'intera elaborazione totale due passaggi. Meno in seguito tutti i graffi erano spariti. Grazie a tutti. Vediamo i risultati. Grazie a tutti. Uno schermo perfetto. Questa è la tecnologia più avanzata attualmente. Vediamo altri campioni. Se hai bisogno di maggiori informazioni, non esitare a contattarci.